benvenuti a tutti quanti voi da vittorio cassilesi non sono solo come sempre anzi questa volta vi faremo vedere quello che accade durante le trasmissioni durante lo so il backstage prima dopo e durante la nostra puntata di oggi quindi a voi buona visione vi lascio alle immagini grazie e naturalmente seguiteci sempre sul canale di vittorio cassilesi e la banda di matti in arrivo dall'oculo 29 a barra 48 il nostro raffaele salve raffaele pace bene mattelli buongiorno sono il morto vivente si nel frattempo presentiamo il secondo il secondo il messo il messo il messo pepe lo benedico sempre nell'uomo del padre sempre nello spirito santo arriva il nostro ucina siamo sempre così stavo scolando due bottiglie di vino tu che sei venuta da altre tomba che sei uscito adesso sto l'uomo è il dolore si accende il lumino fatemi vedere il lumino questo lumino si 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 basano pensieri c'è il suo colore questo da sette giorni tu ogni sette giorni esci è questo chi è questo è fido la nuova cravatta c'è una cravatta c'è una cravatta c'è una cravatta fido si si siede un po' si siede si siede facciamo il balletto porta la sedia portala la sedia carro portale la sedia tu perché sei uscito da altre tomba perché E perché? E perché? Non ci dà Langia Dominica! E perché? E quel problema? E porchè non ci dà tre Tom? E perché? E perché? E la mila de là... A domenico di chi ha detto il Lumina di Venga Rosso lui devi andare direttamente... Ecco chi mi ha rubato dall'algo di Natale le lucine Giax, anche tu mi hai rubato le mie birre, Giax. Che birra è? È una birra da lontano. Lei si porta un'altra bottiglia per sette giorni, sette notti. Mettiamo tavola. Mettiamo tavola. Vuoi un'altra birra che ti fa bene? No, no, no. Sto bene così. Vedete la lampada quando sarà rosso, sono Raff, Raff, due birre, una settimana che ti fa bene. Eccole, una bella risata prima che lei si chiude il notavuto. Ahhhh! Quando sei pronto, e c'è colore! Ma non c'è colore? Uno, va in onda! È il momento che stiamo aspettando. Ma giusto, perché vi è accavallato uno sull'altro? Ognuno parli uno per volta. insomma vada 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 penso colore vada allora certo è rosso è rosso allora signore e signori buon pomeriggio buongiorno buongiorno ci troviamo su radio canale 93 stiamo facendo una trasmissione BANDA DEI MARTI presenta la BANDA DEI MARTI vi presento a FRANK guarda qui almeno chi è FRANK? FRANK L'AMERICANO oggi sono FRANK guardiano del PAN allora FRANK alla destra alla sinistra ci abbiamo Carlo ci abbiamo ci abbiamo a Pepe ciao Paoli io sono il suo discemo dell'arcaiere eccoci alla dipendente grazie che che buon Natale buon Natale buon Natale a tutti quando è verde quando è verde è verde ogni colore è verde cambia colore è verde si ammoscia si ammoscia si alza asf 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 aiuto l'hanno pescato è che è un luccio oggi c'è un forma gravata un forma? forma gravata ah è un forma gravata insomma se fai una gravata faccio tutto questo è un fermo no no un fermo gravata un fermo gravata eeeh e perché c'è questa gravata? e perché? e perché? e perché? eeeh 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 mi meraviglio di lei signor principe sei cambiato tutto principe anzi l'abito a te non ti fai il monaco non fai ricambiare guarda un po' che cappigliatura cappigliatura ah sei troppo pazzo principe non possiamo farci niente andiamo a vedere che sta facendo Raffaele che sta facendo eeeh vediamo che sta facendo Raffaele che stai combinando Raffaele? cosa stai facendo? questo cappellone non ti capisco non ti capisco ma devi mangiare ancora? che state a fare? no, no basta basta stop non ti capisco ha detto stop Big Ben Big Ben ha detto stop no no niente pasta io voglio il dolce no ne espe par te come fa la cazzone di te per te Sta ta 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 un'altra canzone di Gigione vai come bella, no quella, Gigione e Ziricola, Ziricola vai come bella scena in campagna quando teme così bella ci portiamo tamburiella o viene buona per cantare e per cantare dai gattini in cuore in o in o in o in o lalalalalala unico bello per cantare, e perrantare dai dai gatti in cuore in o in o in o in o vai principale saluti beh saluto e anche quest'odio siamo arrivati al termine speriamo ti l'avete fatto divertire ma guardate sempre ma scusate Raffaele Raffaele dove sei andato Raffaele si è bagnato si è bagnato vi salutiamo alla prossima salutiamo il nostro principe Raffaele e Pepe e perché insomma quello che accade in questa radio lo avete visto ma non è tutto perché vi rimandiamo alla prossima occasione grazie a tutti quanti voi da parte mia da Vittorio Gessinesi da quella strepitosa banda di matti che comunque matti devono essere per forza perché se non sono matti noi non li vogliamo ciao e alla prossima